Qui è Alan Kincaid sul cesso della NBC e Screen Gen. Tu, Rick, spiega al pubblico nei fatti che cosa fa una controfigura. Beh, c'è Jake Cahill che deve cagare. Eri tuo ad adoperare il lanciafiaif, vero? Ci puoi scommettere il culo, caro io? Oh, porco Dio. Cazzo, e dai, è troppo cazzo. Non ci si può fare niente. Rick, è un lanciafiaif? Già. Dì, ok, non è. Quello era Polanski. Era Roman Polanski. In un mese che vive qui è la prima volta che lo vedo. Lo vedo. Ma dimmi tu. George! Ciao, George. Un momento. Che succede? Va tutto bene. Scusa se ti masturbo. Ma chi sei? Sono Cliff Booth. Chi sei? Sono passato a salutarti e vedere come stai. E tu chi sei? Non fa niente, George. E chi è? Siamo stati colleghi in passato e volevo accertarmi che te la passassi bene. Chi? Rick Dalton. Lo fai apposta o sei scemo di tuo? Non lo so tu chi sei. Sono Cliff Booth. Chi cazzo sei? Sono uno stuntman. E attaccati al cazzo? Tante cose, George. E chi è? Chi cazzo sei? Chi cazzo sei? Chi cazzo sei?